Buongiorno a tutti, sono Ivana Garbolino e sono qui per portare una testimonianza del percorso che sto facendo con Elisa. Mi sono rivolta ad Elisa che ho conosciuto tempo fa per un brevissimo tempo ma con la quale ho avuto subito una particolare intesa. Mi sono rivolta a lei perché dopo due anni io continuavo ad essere completamente bloccata. Mi sentivo totalmente snaturata in quello che facevo e questo non mi permetteva di essere me stessa. Mi sentivo come se fossi stata un quadro ma senza colore. E quello che io volevo invece era trovare il colore per dipingere questo quadro, per permettermi di essere me stessa, di rispettare la mia individualità. E questo mi è stato possibile con Elisa, tant'è vero che dopo un solo incontro io stavo bene, mi sentivo già molto più serena, mi sentivo in linea con la mia essenza e sentivo descrivere quello che mi rappresentava. Ma soprattutto ho visto dei cambiamenti importanti, sono aumentate le interazioni, con Elisa ho organizzato una sfida che era la mia quinta sfida e per la prima volta ho avuto il primo giorno quattro iscrizioni e spero che ne arrivino ancora altre. Che per me era comunque una cosa che mi ha dato una gioia immensa e sto imparando a fare la lead. Tutto questo ha cresciuto ulteriormente la mia sicurezza, ma c'è un altro aspetto per cui io mi sento particolarmente sicura. È che tutte le volte che ho un dubbio, perché purtroppo la mente ci porta costantemente nel dubbio, tutte le volte che ho un dubbio io so di potermi rivolgere ad Elisa senza dover prenotare, senza dover aspettare. Sì, per carità, non pretendo mai una risposta immediata perché ognuno ha le sue cose, il suo lavoro, però comunque mi risponde sempre in giornata, a volte anche subito o quasi. Questo mi rassicura tantissimo. Il consiglio che voglio dare a voi, che mi ascoltate, è che se vi trovate nella situazione in cui mi sono trovata io, se avete grossi dubbi, se vedete che siete bloccate in qualche aspetto che non vi permette di risplendere come è successo a me, rivolgetevi tranquillamente ad Elisa perché accorcerete tantissimo i tempi e questa è una cosa bellissima. Vorrei aggiungere ancora una cosa, quello che mi piace particolarmente di Elisa e il suo metodo. Nel senso, Elisa non mi indottrina, ma utilizza la maieutica proprio e quindi fa uscire da me quello che io voglio e quello che voglio raggiungere. Non mi dice quale strada percorrere, ma mi aiuta ad individuare la strada che io voglio percorrere. E questo mi sembra grandioso rispetto a tutto quello che ho incontrato nella mia vita. Vi ringrazio tutti di avermi ascoltata e spero di esservi stata utile.